la prima volta è 30 anni, è rinquato ammazzato, perché là è basso Sì, no, dopo tranquilli Questa è l'agricoltura, perché la prima volta è rinquito, perché la prima volta è rinquito, è rinquito, è rinquito, è rinquito, è rinquito, ci sono due Che vuoi fare? Puoi andare di gas, perché scavi, devi andarsi un po' le voci. Prendi il motore! Non ne ha di motore o non ne ha di motore? E' anche di pilota. Stavamo migliorando. Tutto quello che aveva imparato, ha perso tutto. E' come... Lui girava con noi, eh. Anche io non so la ricorda. Quante tempi aveva giro? Quante quittà aveva là? Punto. Punto. E dopo vinceva. Correra dietro, va che lì c'è il sasso, va che lì c'è il sasso, va che lì c'è la terra. Prendi la terra, va che lì c'è il sasso, va che lì c'è il sasso. Ma perche ti vuoi incasinare? Sì, 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 sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.